Incontro con Michele Lucente, presidente di Confindustria Crotone. Io vorrei partire da questa crisi profonda che c'è nella nostra città, una crisi economica, una crisi del lavoro, una crisi sociale, una crisi? Sì, è una crisi che purtroppo sta durando troppo tempo e sta coinvolgendo l'intera popolazione. Non è soltanto una crisi di carattere economica ma è proprio una crisi di carattere sociale. C'è una rassegnazione, una rabbia in giro che rischia di compromettere quello che è una stabilità di un territorio e quindi c'è sempre di più la determinazione e soprattutto l'esigenza di dover portare avanti dei progetti che possono nell'immediatezza risolvere questi problemi. Qual è la situazione delle imprese crotonesi? La situazione delle imprese purtroppo non è cambiata, va sempre più peggiorando. Noi possiamo contare da un lato su una grande qualità, un grande know-how da parte delle nostre imprese che continuano a voler rimanere nel nostro territorio che continuano a voler dare posti di lavoro tenendo alto il livello imprenditoriale. Purtroppo dall'altra parte però la carenza di commesse che ormai diventa sempre più una forte negatività all'interno delle nostre aziende porta le stesse o a delocalizzare o a licenziare. Questo naturalmente compromette la stabilità di aziende storiche e compromette anche il lavoro di molti lavoratori che rappresentano oggi un bagaglio importante in termini di esperienza all'interno delle imprese. L'isolamento infrastrutturale in qualche modo ha effetti negativi sul nostro territorio? Questa è sicuramente tra le primissime motivazioni di questa situazione economica tragica. Indubbiamente le infrastrutture, noi abbiamo sempre detto che sono non più solo un mezzo per ridare dignità ai cittadini per potersi muovere. Quindi collegarsi con il resto del mondo ma soprattutto rappresentano la porta di accesso per un'impresa economica. Ecco perché l'attività di Confindustria in questi anni è stata molto concentrata su infrastrutture tra cui l'aeroporto per cercare proprio di utilizzare lo stesso non solo come mezzo di connessione tra i cittadini e altre città italiane ma soprattutto per cercare di portare qui in coming e quindi far sviluppare l'idea dell'industria turistica. Tanti tavoli istituzionali ci sono stati nel corso di questo 2017 ma i risultati prodotti? Ma i tavoli sono stati tantissimi. Secondo me siamo in una fase storica del nostro territorio perché siamo arrivati finalmente a poter forse girare l'angolo. Basti pensare alla bonifica, nella conferenza del 27 aprile si è delineato un progetto chiaro da parte di Sindia su quello che deve essere l'idea di bonifica sul territorio. Basti pensare all'antica Croton, anche oggi le notizie uscite sui giornali mettono in evidenza questa sinergia che si sta portando avanti tra le regioni e il comune di Crotone per cercare di utilizzare immediatamente queste risorse. Ma c'è un terzo elemento molto importante che sono i fondi europei quelli direttamente che possono arrivare ai comuni quindi non parliamo del pacchetto 2014-2020 ma parliamo di una serie di interventi molto importanti e noi come Confindustria abbiamo segnalato al comune di Crotone, a Crotone Sviluppo una risorsa di circa 800 milioni di euro di risorse dirette che vengono date alla comunità europea per il collegamento e lo scambio di progetti tra stati della comunità europea. Diciamo che ci vuole anche la conoscenza di tutto questo perché chiaramente per una mia esperienza personale ho fatto l'animatrice in Europa e so che cosa significa questo scambio con gli altri paesi i progetti con un partenariato comune che riguarda creare sviluppo e opportunità nei territori purtroppo da noi non c'è ancora questa conoscenza approfondita di che cosa significa stare in Europa e utilizzare i fondi europei? L'idea che ha avuto il comune di Crotone che noi abbiamo condiviso in quanto titolare di quote dei Crotone Sviluppo quindi poi le abbiamo cedute anche gratuitamente quella di poter fornire all'ente comunale una struttura che avesse delle competenze in termini proprio di utilizzo di queste risorse riteniamo che sia la strada giusta è necessario che non si perda tempo perché le risorse che dicevo prima scaderanno nel 2020 quindi non sono infinite questo significa che oggi ne stiamo parlando ma ci sono già stati che si stanno muovendo e hanno già presentato progetti è chiaro che la conoscenza è alla base di ogni programmazione poi dopo la programmazione ci vogliono delle competenze che portano anche delle idee progettuali io non penso che sia un percorso difficoltoso io penso che sia solo un percorso di grande volontà e se questa c'è le sinergie e le professionalità sul territorio ci sono e qualora non ci dovessero essere dobbiamo essere bravi a guardarci all'esterno Il fatto è che cresce comunque la crisi economica nella nostra realtà non possiamo certo dimenticare anche le vertenze che ci sono per il mondo del lavoro e soprattutto quest'impotenza di fronte a una situazione che ha bisogno forse di una maggiore autorevolezza ma anche di un gioco di squadra per poter avere delle risposte anche in tempi brevi Sì, sembra che da noi la normalità sia un traguardo irraggiungibile veramente ci troviamo di fronte a delle problematiche che potrebbero essere invece delle opportunità per il nostro territorio una fra tutti l'ultima quella anche la riunione per quanto riguarda il Marrelli Ospita dove ricordo in Consiglio Comunale un sindaco intervenne dicendo ma se la regione vuole accreditare la radioterapia se la vuole l'Asp, se la vogliono i sindaci come mai non si fa una cosa del genere allora vuol dire che veramente noi ci troviamo di fronte a una forza che non abbiamo come territorio di Crotone contro una forza che evidentemente vuole tenere questo territorio in un angolo io penso che la sinergia sia la vera strada per uscire da questa crisi però deve essere una sinergia non solo di partecipazione a tavoli istruzionali ma deve essere una strategia operativa noi dobbiamo trasformare i tavoli istruzionali in tavoli operativi apparire di meno e fare di più diciamo che in realtà ci troviamo di fronte ad una situazione in cui i personalismi hanno più effetto del bene comune sì, questo è il territorio dove forse la prima attività che non manca del primo posto di lavoro è proprio quello della critica quello di dover per forza di cose evidenziare l'idea dell'altro come negativo e non propositivo c'è sempre l'idea dell'io invece che del gruppo io penso che quella fascia di persone che ormai ha fatto il suo tempo debba essere messa da parte e io ritengo che piano piano questo sta avvenendo io noto che c'è una grande voglia da parte di un territorio da parte della società civile nei comitati che fanno da parte delle associazioni di poter affiancare la politica cioè l'idea di votare un sindaco e poi criticarlo per cinque anni aspettando il prossimo secondo me è un'idea che ha dimostrato di essere fallimentare noi quando andiamo ad eleggere un sindaco e il sindaco viene eletto è necessario che dobbiamo stare al suo fianco affinché i progetti possano essere realizzati perché poi è l'ente comunale è la politica che gestisce la programmazione di un territorio e quindi noi non possiamo fra l'altro che affiancare cercando di tirar fuori anche delle idee progettuali è facile criticare è molto più difficile operare perché bisogna avere il coraggio anche di essere criticati ma se uno opera la critica avviene ma se la critica è costruttiva e opera in trasparenza e con l'amore verso questo territorio secondo me non ho nulla da temere un'analisi perfetta la sua ma dobbiamo anche dire che in ogni caso noi stiamo andando stiamo facendo come i gamberi sempre più passi all'indietro piuttosto che qualche passo in avanti sì questa è un'altra caratteristica che abbiamo noi ogni volta facciamo un passo in avanti sembra che ne facciamo dieci indietro però non bisogna mollare noi siamo veramente impegnati 365 giorni all'anno tutte le ore della nostra giornata ormai sono piene su dei tavoli che ripetono sempre le stesse cose sempre gli stessi argomenti diciamo anche che questo è un momento in cui dovremmo puntare sul turismo ma in questo momento sul turismo possiamo fare poco beh possiamo fare poco perché se ci manca l'infrastruttura principale che è l'aeroporto sicuramente possiamo costruire tutti i percorsi che vogliamo ma se non c'è una via di comunicazione questo diventa un problema fondamentale oggi noi stiamo pagando anni di disattenzione verso questo territorio io ho sempre detto che l'aeroporto andava salvato quando i fondi c'erano quando era l'unico aeroporto della regione Calabria e oggi non si può pensare di animare questo perché siamo spinti da una disperazione noi dobbiamo stare calmi ragionare cercare di tracciare un percorso che possa essere su base triennale far confluire su quel percorso tutte le risorse che possono essere messe a disposizione da parte degli enti e poi fra tre anni fare un saldo dell'attività effettuata e se riteniamo che l'industria turistica fatta in un certo modo come ha fatto la Puglia non porti a quei risultati allora si cercherà di vedere su altre sponde ma è arrivato il momento veramente di cercare di capire noi non da grandi quello che vogliamo essere ma oggi Crotone che tipo di identità nuova gli vogliamo dare Quale potrebbe essere l'identità di Crotone allora? Ma guardi noi abbiamo un grandissimo know-how per quanto riguarda le attività sicuramente sia nella sanità sia nell'agricoltura ma parliamo di tutto il settore della metalmeccanica noi riteniamo che per poter portare fondi immediati a Crotone la via principale non l'unica la via principale sia quella della industria turistica a 360 gradi che possa puntare sulla nostra tradizione e sulla nostra cultura consideri che è necessario seguire la strada più facile se Pitagora e la Magna Grecia sono conosciuti nel mondo e Pitagora l'abbiamo avuto noi a Crotone è assurdo che noi non utilizziamo questo brand che è già conosciuto e quindi ha un marketing molto avanzato dopodiché da lì possiamo affiancare tranquillamente la grande risorsa del mare e della montagna che abbiamo per non parlare tutto del settore dell'agricoltura che sicuramente rappresenta un'eccellenza ad oggi non ancora sviluppato per quello che può invece offrire dobbiamo aggiungere che abbiamo anche bisogno della bonifica e soprattutto di guardare a quel waterfront per poter dire ecco lo sviluppo viene anche dal mare assolutamente sì la bonifica è importantissima noi abbiamo fatto un'assemblea molto partecipata ieri in Confindustria in cui si sono aperti una serie di scenari importanti tra cui ormai lo facciamo da anni siamo contenti che sia la regione che il comune hanno diciamo ormai sono su questa linea che è quella di poter sottoscrivere per il territorio di Crotone un local content affinché si possa fare un protocollo che dia dignità alle aziende del nostro territorio e li coinvolga direttamente con l'assunzione di personale locale per l'attività di bonifica però io mi vorrei un po' allontanare da quello che è un'idea di sviluppo legata solo alla bonifica la bonifica sono 80 ettari di terreno Crotone ha una estensione molto importante la bonifica sicuramente strategica è importante ma non è soltanto l'unica via di sviluppo di questo territorio altrimenti rischiamo di perdere tempo come è stato fatto fino ad oggi dalla chiusura delle fabbriche che mi sembra che sia avvenuto nel 92-93 i fuochi mi sembra che siano nel 94 ad oggi abbiamo soltanto messo in seguito un sogno che non si è verificato quando avremmo potuto utilizzare questi oltre 25 anni per cercare di dare una economia nuova al nostro territorio il waterfront è importantissimo perché noi dobbiamo prendere la risorsa e lo sviluppo del nostro territorio dal mare cosa che ad oggi non abbiamo mai utilizzato quindi comunque diciamo siamo sulla stessa lunghezza d'onda che in 25 anni questa città avrebbe potuto essere una città in forte ripresa con tutti i finanziamenti che sono arrivati che sono stati mal spesi una terra che avrebbe potuto avere veramente l'opportunità di mettere in campo la sua vocazione naturale che può essere quella turistica con tutti i settori culturale archeologica marina la montagna a mezz'ora abbiamo tutte le risorse che ci servono forse manca la risorsa principale sì io non sono abituato a dare responsabilità agli altri del lavoro che fanno l'ho sempre rispettato però indubbiamente in 25 anni abbiamo perso tempo potavamo ricostruire questo territorio perché come lei diceva c'erano tantissime risorse sia economiche sia di imprese sane oggi siamo un territorio abbattuto dalla guerra quindi abbiamo bisogno del famoso piano Marshall per poter ripartire però l'unica cosa che bisogna mettere in evidenza che non mancano sono le risorse economiche Crotone può contare sulle royalties può contare su fondi diretti dalla comunità europea può contare sui fondi della regione 2014-2020 può contare sulla bonifica anche l'antica Crotone che sono 61 milioni di euro veramente questo è un territorio che non ha problemi economici l'unico problema che abbiamo noi in questo territorio è quello di avere un progetto comune dove ognuno possa partecipare offrendo la propria professionalità anche con un business in diretto ormai mi siedo solo se guadagno non va più bene purtroppo è chiesto sacrificio è chiesto sacrificio a tutti se ognuno di noi vuole salvare questo territorio è necessario che si faccia emergere questo territorio si possa puntare non a delle economie periodiche ma noi dobbiamo avere come obiettivo l'economia stabile quanto sa che le nostre famiglie le famiglie crotone si sono in ginocchio sono in grande difficoltà e sofferenze beh è chiaro che purtroppo alla programmazione all'immagine di come vorremmo questo territorio alle tante belle parole che possiamo dire c'è una realtà molto tragica che è quella di famiglie che naturalmente hanno i propri figli che rappresentano oggi quella classifica tra le più alte d'Italia di disoccupazione giovanile questo è un dato allarmantissimo non solo per quanto riguarda la disoccupazione ma per il fatto che i nostri giovani sono costretti ad andare via quindi noi perdiamo le risorse intelligenti del nostro territorio abbiamo aziende che naturalmente stanno chiudendo quindi perdiamo o meglio ancora delocalizzano la loro attività fuori dal nostro territorio in territori dove sono molto più aperti all'accoglienza ad offrire servizi cioè vanno verso colui che produce non ne fanno una guerra verso il mondo economico che invece dovrebbe essere valorizzato dovrebbe essere dovrebbe tornare nei tavoli politici al centro dell'attenzione noi diciamo sempre che fino a quando non si tornerà ad avere il politico al servizio del cittadino e non il cittadino al servizio della politica questo territorio avrà delle difficoltà a poter riemergere quindi diciamo in realtà qual è il settore economico più in difficoltà e qual è quello più stabile mi riferisco alle aziende di settore ma attualmente non sicuramente quello dell'edilizia è uno dei settori che soffre ma questa è una crisi nazionale anche se registriamo negli ultimi anni una forte ripresa da questo punto di vista ma indubbiamente è quel settore che nel momento in cui è entrato in crisi ha trascinato all'interno una serie di indotto veramente importante diciamo che non esistono veri e propri settori che sono diciamo in positivo o in negativo oggi è una crisi generalizzata e le percentuali di aumento di fatturato di singole aziende purtroppo non rappresentano quella diciamo quell'impatto positivo sul territorio perché sono una goccia veramente in un oceano quindi è una situazione veramente disperata però probabilmente è proprio questa situazione che ci sta spingendo a accelerare i tempi per cercare di portare delle risposte che sicuramente non saranno in linea con quelle che sono le esigenze aziendali o le esigenze dei disoccupati ma ognuno di noi deve cercare di fare il proprio ruolo assumendosi anche le proprie responsabilità Qual è il futuro per Crotone e quali sono realmente le potenzialità che possono restituire dignità alla nostra città e al nostro territorio? Io penso che Crotone per potersi sviluppare questa è un'idea che noi stiamo portando avanti non può pensare di farlo all'interno dei propri confini provinciali ma debba cominciare a utilizzare quella famosa sinergia che di fatto è sempre stata detta sottoscritta ma mai operativa dalla costa ionica perché noi facciamo parte di una costa dove all'interno partecipano delle città molto importanti come Rossano Cariati come Taranto stesso che naturalmente ci possono dare la possibilità di poter ottenere dei risultati immediati e poi tutta la parte ionica si affaccia nell'area del Mediterraneo se noi non guardiamo a quell'orizzonte e lo facciamo con dei progetti concreti io non penso che questa città possa avere delle facili risoluzioni immediate in quanto è un'economia provinciale che è un'economia diciamo molto ristretta molto sofferente che si cala all'interno di una regione che non è che sia naturalmente tra le più produttive d'Italia e quindi è necessario guardarci intorno con i confini con quelli che sono le regioni a noi vicino ma soprattutto all'area del Mediterraneo utilizzando questi fondi che ci sono che potrebbero veramente portare risorse importanti guardare dall'altra parte del Mediterraneo portare la nostra professionalità portare la nostra competenza nelle aree di fronte in quei paesi che hanno bisogno in qualche modo anche loro di svilupparsi assolutamente sì è uno scambio che dobbiamo fare considera che nei fondi che le dicevo prima le presidenze molto spesso sono assegnate a regioni che non sono BTV1 come le Marche e l'Emilia Romagna cioè io trovo veramente assurdo che una regione Calabria in questo momento non sia una protagonista attiva in questo percorso di sviluppo su questi fondi all'interno dell'area del Mediterraneo noi abbiamo molte similitudini con l'area della Grecia dell'Albania della Croazia ma parlo proprio dell'intero Mediterraneo che inizialmente era la Magna Grecia quindi era quella che ha insegnato ad altri popoli a riuscire a portare quello che ancora oggi sono le basi delle nostre economie le basi dei nostri progetti quindi sicuramente noi possiamo andare lì a trasmettere la nostra tradizione le nostre idee ma secondo me andiamo lì a imparare molto di quello che può essere questa idea di turismo che vogliamo fare che ritorno a dire non è il momento balneare ma offrire una serie di servizi a 360 gradi da una città accogliente una città che sa dare i servizi minimi essenziali per poter accogliere con dignità i nostri turisti ma soprattutto riuscire anche a strutturare le nostre aziende le nostre attività commerciali faccio un esempio avere almeno una persona che sappia parlare l'inglese che naturalmente possa comunicare con chi viene in un territorio e dà per scontato che alcuni servizi esistono perché dobbiamo parlare di turismo se poi non abbiamo nemmeno le guide turistiche che possono accompagnare i turisti in giro per la città e raccontare la storia di Crotone quella storia di cui tutti noi ci gloriamo perché diciamo Crotone l'antica Croton e poi come gliela si spiega se non abbiamo le persone che possono fare questo tipo di lavoro che potrebbe essere un'apertura per il mondo dei giovani questo è uno degli obiettivi che noi stiamo portando avanti anche con l'alternanza scuola lavoro in cui diciamo abbiamo iniziato a lavorare con gli istituti scolastici di Crotone dove già dalle elementari noi cerchiamo di trasmettere loro quelle che sono le nozioni del nostro territorio i primi a dover vendere positivamente invece non lo facciamo il nostro territorio del mondo dovrebbero essere i crotonesi noi purtroppo non abbiamo la conoscenza come giustamente diceva lei del nostro territorio quindi abbiamo bisogno di figure professionali è chiaro che la figura professionale la si forma nel momento in cui c'è l'opportunità di lavoro quindi le due vanno in parallelo quindi noi non stiamo bloccando lo sviluppo del turismo perché manca un elenco di guide turistiche competenti vogliamo fare entrambi per fare questo ritorniamo a quel discorso di programmazione che non è soltanto io sono stato bravo a presentare un progetto per ottenere dei fondi ma io devo essere anche bravo oltre ad aver individuato le linee di finanziamento a cercare di capire quel progetto che ricaduta economica può fare in un territorio un'ultima domanda parliamo appunto di in positivo di questa città oggi c'è la consapevolezza che bisogna tirarla fuori dal guado sì noi abbiamo noi siamo ormai la fascia dei quarantenni che ha deciso di rimanere su questo territorio perché amiamo questo territorio non c'è nessun'altra motivazione che ci spinge a stare qui se non la consapevolezza di vivere una città bella noi abbiamo una città bella è una città meravigliosa abbiamo una città che ha necessità solo di avere un'economia stabile altrimenti il clima le persone l'ospitalità tutto quello che è anche la viabilità della stessa città sicuramente rappresenta un valore aggiunto nella qualità della vita che noi facciamo intorno alle nostre famiglie bisogna sforzarsi non bisogna abbandonare la cosa più facile è scappare noi dobbiamo rimanere e cercare chi ha i ruoli istituzionali anche quelli associativi e non solo cercare di fare squadra quadrato per salvare questa realtà che merita e che probabilmente da secoli ci dice guardate che ci sono guardate che c'è un tesoro però voi stessi crotonesi vi girate dall'altra parte noi dobbiamo cominciare a guardarci invece verso uno sviluppo positivo della nostra città la maledizione di Pitagora camminerete sull'oro e non ve ne accorgerete si la maledizione di Pitagora che ci auguriamo veramente che possa cadere nel momento in cui noi porteremo Pitagora essere il protagonista della ripresa di questo territorio